Inizia 60, tornante non visto sinistra, 50, due destra lunga stringe. Buona fortuna. 5, 4, 3, 2, 1, via! 60, tornante non visto sinistra, 50, due destra lunga stringe, in due sinistra apre, 50, 4 sinistra, 30, 3 destra, 50, tieni la destra in due sinistra lunga stringe tardi, 30, 5 destra, 60, 4 destra lunga stringe su avvallamento 3 su crinale, In 5 sinistra su crinale, in 4 destra molto lunga, 30, 4 sinistra lunga, in taglia 4 destra, in 3 sinistra lunga, apre su crinale, 70, 5 destra lunga stringe 3 lunga, In 2 sinistra, 30, 5 destra, in 5 sinistra su crinale lunga, stringe in taglia 4 destra, 4 sinistra lunga su crinale, in taglia 5 destra, 4 sinistra, 5 destra taglia, in 5 sinistra in 4 destra, In 6 sinistra, 6 destra, in 5 sinistra lunga, in taglia 6 destra, in 5 sinistra su crinale, 30, 6 destra molto lunga su crinale, 50, stretto 4 sinistra stringe, 30, Rallenta 6 sinistra su crinale, in taglia poco 3 destra, 4 sinistra, taglia 4 destra, e 3 sinistra lunga, 30, taglia 4 destra su avvallamento, apre su crinale, in 6 sinistra, E taglia poco 4 destra, 3 sinistra lunga, apre, 6 sinistra, in 5 destra, apre, in 3 sinistra stringe, in 3 destra stringe, in 4 sinistra, in 4 destra lunga, apre su crinale, in improvviso 4 sinistra, in 5 destra, In attenzione 2 sinistra lunga, 30, 2 destra lunga, 30, 2 sinistra lunga, stringe, 30, 4 destra molto lunga, stringe, 3 lunga, stringe, 5 sinistra lunga, stringe, In 3 destra stringe, in 5 sinistra lunga, stringe, apre, 6 lunga, 4 destra, in 3 sinistra, stringe, 80, Rallenta, 4 sinistra, in 4 destra, apre su ponte, stringe, 3, e 6 destra, 50, 5 sinistra molto lunga, stringe 4, 100, Tieni la sinistra, in taglia molto, 5 destra su crinale, in attenzione, tieni la sinistra su crinale, 3 destra, stringe, 30, 4 sinistra lunga, stringe, 2, apre, In 6 sinistra molto lunga, apre su crinale, in 2 destra lunga, apre, stringe 1 destra, in 2 sinistra, e crinale 1 sinistra, su traguardo, In 4 destra lunga, allo stop Speriamo di aver fatto abbastanza per vincere il campionato, aspettiamo la conferma Grazie a tutti, spettiamo la conferma Gan turtle, ingiday la conferma Grazie a tutti Grazie a tutti